Facendo una passeggiata sulle nostre spiagge possiamo incrociare più di 5 rifiuti, 10 ogni metro. Per la maggior parte plastica, l'81% del totale, ma ci sono anche mozziconi di sigarette, cotton fioc, materiale da costruzione e tanto altro. Tutti rifiuti spiaggiati, gettati consapevolmente arrivati da chissà dove attraverso i fiumi o che provengono direttamente dagli scarichi non depurati, dall'abitudine di utilizzare i WC come una pattumiera e soprattutto dalla loro cattiva gestione. A fotografare il fenomeno è l'indagine Beach Litter 2019 di Legambiente che presenta anche quest'anno una situazione critica per molti arenili italiani. Su 93 spiagge monitorate infatti, su un totale di 400.000 metri quadri per quasi 60 campi da calcio, sono stati trovati una media di 968 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia. E da queste considerazioni che Legambiente lancia di nuovo la campagna spiagge e fondali puliti Clean Up the Med con sei appuntamenti lungo tutta la costa abruzzese per cercare di ripulire dai rifiuti i nostri litorali. Una direttiva europea che deve essere precipitata dall'Italia, mette al bando la plastica, allora qual è il momento migliore per lanciare la campagna di salvaguardia del mare? Sì, il momento è ottimo dal punto di vista dello sprint per mettere in campo quelle iniziative che possono alzare l'asticella nella lotta alla plastica. Ovviamente ci auguriamo che questa direttiva sia recepita in tempi rapidissimi e che il governo italiano metta in campo ulteriori misure per rafforzare questa azione, ma è anche vero che occorre un'azione locale dal basso. Molte amministrazioni si stanno muovendo con delle ordinanze plastic free. La stessa regione ha sottoscritto un protocollo con noi in funzione della campagna comuni ricicloni per rendere l'abruzzo libero dalla plastica.